Della serie spacchiamo coglioni a chi ha fatto la corsa, come è andata? La passeggiata, saluti? Ma ora, la passeggiata! La mezza passeggiata, ho capito, vai! Diciamo così! Oh, buona, buona, buona! Una scampatuta! Una scampatuta! Come è andata? Il mio amico... Un po' provato, eh! No, no, invece l'ho visto... Si dava bene, quello! Pezzettino lì sulla salita alla curva, ho visto... Mezza passeggiata, saluti! Mezza passeggiata! Poi l'altra pezza è morto, va bene! Oh, bravo! Mezza passeggiata di resurrezione! Invece li vedo bene! E Easy, la punta e l'amante e il ponte oggi, eh! Massini sui podi, Ullino e Parigini, guarda, potrebbe essere... Perigno quando me lo son visto passare sui Sider, l'ho detto, guardate che cacchio! Vabbè, comunque sta un'altra passeggiata, Usiello, come è solito! Un bombe il disfondamento, eh! Come è solito! Come è solito! Finisce il comune, perciò! Poi, vediamo, chi arriva! Allora, Marlene! Marlene, guarda, ho da posto! Eh? Sì, Marlene! Ti aspetta mamma Gloria! A semi Gloria! Vado via perché mi aspetteranno questa! Vai! Ciao, Marlene! Ciao, Marlene! Ciao, Marlene! Ciao, Marlene! Ciao, Marlene! Ciao, Marlene! Io vado a vedere! Sì, 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 sì! Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Allora, è tutto! Da San Gimignan, eh! Dalla spiaggia di San Gimignan, sì! Manca l'ombrellone, poi c'era tutto! Bagnoponte! Bagnoponte! E guarda, ecco qui! Bagnoponte! Bagnoponte! Bagnoponte di Scandina! Poi poveri non ci si può prendere! Vabbè, oh! Tutto non si può avere! Ci abbiamo anche l'Elisa! E' arrivata! Non si! Fa prendere subito la vernaccia! Non sapeva che non avessi a finire! Elisa! No, ma c'è una giornata! C'è una giornata! No, ma c'è una giornata!